il riciclo di centri centrini fatti dalla nonna gelsomina è bellissimo bello ciao questo fatto un centro con due lembi di di stoffa di canapa di asciugamano questo è un tappeto per il tavolo con delle rifiniture in questo modo e questa qua invece è una coperta che va ancora perfezionata e tutto questo quando c'è inverno pieno e pieno di neve e Grazie a tutti